Ciao a tutti ragazzi, da Nicola Castiglione dalla Selezione Nazionale Piloti. Allora, ci siamo anche questa notte con un po' di notizie interessanti. Una che riguarda il mercato tecnici, che interessa tantissimo i tifosi della Ferrari. C'è un'altra che fa tanto rumore e che riguarda Christian Horner, ma anche lì è arrivata subito una smentita, forse di facciata, perché vorrei ricordarvi una cosa che appunto mi ha fatto venire in mente questa smentita qua. Comunque, ci sentiremo per queste altre notizie dopo la sigla. Bene, iniziamo questa puntata con una news che ci riempie il cuore di gioia, perché c'è tanta, tantissima Italia nella prima prova del Moto Mondiale, con la grande vittoria di Francesco Bagnaia su Ducati. E' stata una gara dominata dal due volte campione del mondo, dal primo giro all'ultimo. E ancora una volta vediamo che Bagnaia non è un pilota da gara sprint, ma da gara classica della MotoGP. E vediamo anche che Jorgen Martin è un pilota da gara sprint e che spesso fa un po' di fatica nelle gare di lunghezza classica, dove bisogna amministrare. Abbiamo visto anche una gara incredibile di Pedro Acosta, che ha amministrato male le gomme, queste gomme che non ti permettono di tirare tutto dall'inizio alla fine, e che alla fine lo hanno visto retrocedere dopo che stava già facendo presagire un possibile podio. Comunque è stata veramente una bella gara con Bagnaia, Binder e Jorgen Martin nei primi tre posti. Poi Mark Marquez al quarto, ma ha messo lì dietro, cioè non si è fatto staccare. E questa è una nota di cui tenere conto, ecco. Comunque, grande Italia nelle moto, e vorrei parlare sempre di un pilota colorato di rosso, perché mi ha molto incuriosito la dichiarazione che ha rilasciato Biermann, ovvero che è proprio in gara che ha capito come usare al meglio la batteria, la batteria del motore, per dare quel surplus di potenza alla vettura, distribuendo appunto qui e là la potenza che arriva dalla parte elettrica del motore ibrido. Questa è una cosa che deve far riflettere, perché ci fa capire veramente come questo pilota abbia corso con poca, poca, pochissima esperienza. Mi fa riflettere un'altra cosa. Come mai dai box noi gli dicevano di utilizzare la batteria in maniera diversa? Forse per non, come dire, distrarlo troppo, però non credo sia questa la risposta. Comunque, fatto sta che lui nel duello con Hulkenberg, praticamente ha capito come doveva impiegare al meglio l'energia che arriva dalla parte elettrica del motore della Ferrari. E questo ci fa capire anche un'altra fase di gara. Vi ricordate quando l'abbiamo visto che non riusciva a passare sul dritto Tsunoda? Ecco, il motivo è semplice. Allora, lui usava male questa parte elettrica del motore perché andava a richiedere potenza nei punti sbagliati. E poi ha spiegato come dovesse attendere un ulteriore giro, che è quello che abbiamo visto noi, dove praticamente non riusciva neanche ad avvicinarsi in scia per appunto ricaricare la batteria. E in quel giro non aveva nulla a livello di spinta elettrica. Ed è proprio lì che tutti quanti siamo saltati sulla sedia perché abbiamo detto, ma guarda, la Ferrari con il DRS aperto non riesce a chiudere il gap con l'RB19. E invece che cosa stava succedendo? Che Tsunoda, proprio quel giro lì, sul dritto è andato a tutta. Invece Birman aveva la potenza, solo la potenza, del motore termico, ma non di quello ibrido. E scusate, elettrico, tutte e due poi compongono il motore ibrido. Andiamo avanti perché sicuramente avrete letto, a me l'avete mandata in ogni modo, questa news che vuole Horner non più appoggiato dai vertici thailandesi. Poi c'è anche questa canzone degli U2 perché praticamente il genero del chitarrista sarebbe il fratello della dipendente che ha denunciato internamente Christian Horner. Ebbene, questa storia qui è stata inserata, subito smentita dai vertici della Red Bull che hanno confermato il pieno sostegno a Christian Horner. Però ragazzi c'è una cosa, se ricordate anche ai tempi di Binotto, a un certo punto uscì un comunicato che diceva che Binotto non andava via ed era firmato, c'era un comunicato Ferrari molto striminzito, sembrò una cosa di facciata per salvare un po' la faccia proprio Binotto, però alla fine dei conti ci fu. Allora non so se qui il caso è uguale, però comunque della presenza di Horner o di Helmut Marco o di entrambi e non si sa come si dovrà parlare in quella famosa riunione di cui vi ho parlato nel video di oggi. Quindi in poca sostanza non è cambiato nulla da come stavano le cose ieri. Ci sarà questo vertice e si cercherà di capire appunto che fine farà il team. se ci sarà solo una parte che andrà via oppure se rimarranno tutti al loro posto cercando di ricucire lo strappo. E sempre ragazzi a proposito di Red Bull, allora parliamo di mercato. È indubbio che la Ferrari sta inseguendo chi? Adrian New Way. Poi in seconda battuta ci sono anche tre tecnici importanti come Pierre Vachet, però ricordiamoci, l'ho detto già oggi, che Pierre Vachet era già stato corteggiato l'anno scorso, era lì per passare, ma ha usato la Ferrari per ottenere un rilancio sul suo compenso. Ok? E non è solo per un anno. Quindi lì la situazione è un po' più complicata perché Pierre Vachet ha un contratto di più anni tre se non sbaglio con la Red Bull. Certo però che ora le cose stanno cambiando, visti i malumori, le guerre, i dissidi interni, anche lui potrebbe avere una scappatoia nel contratto. Ok? Però queste due non pedine, diciamo pezzi grossi, ecco, sono dei colpi importanti, importantissimi di mercato. La Ferrari si è fatta nuovamente avanti, pesantemente e pubblicamente, perché si è visto chiaramente che lasciamo perdere i colloqui tra Vasset e Vachet, ma quante volte capita di vedere John Elkan che esce dall'ospitality Red Bull? Cosa fa? Va a prendere un caffè? Non credo proprio. È andato lì con il preciso motivo di, come dire, per motivi di mercato. Però, comunque, anche se le trattative, questo è bene dirlo, sono state avviate un'ulteriore volta, è arrivata un'offerta importante, mettiamoci anche la quanto pare verso Adrian Newey, però è anche vero che non c'è nulla di certo, nulla di sicuro, fino a questo momento. E un'altra cosa certa, la volete sapere qual è? Che Vasset sta comunque continuando a potenziare il team in quelle aree dove è un po' più debole, infatti io direi per piacere Xavi Marcos. Ma al di là di questo, quella mia opinione personale, dicevamo, sta cercando di fare questo tipo di lavoro. E questo tipo di lavoro non si fa solo prendendo il top, ma ci sono tanti ingegneri validi che girano attorno alla struttura Red Bull, che girano attorno ad Adrian Newey. E di fatto una squadra si potenzia o si indebolisce quella da cui tu prendi, proprio con degli innesti o dei prelievi, se volete, mirati. E allora, visto che i nomi sono venuti fuori, parliamone, perché abbiamo Morgan all'estrema sinistra, poi Waterhouse al centro, e l'italianissimo Alessandro Germani, che sono oggetto di parecchia attenzione da parte di Fred Vasserra. E questi tre sono dei pezzi grossi, due, prettamente aerodinamici, uno che si occupa della dinamica del veicolo e quindi stiamo parlando di tre pedine, ma non sono proprio pedine, importanti del mercato tecnici che potrebbero arrivare presto a Maranello a rafforzare uno staff, che lo ribadisco, è stato capace di creare una monoposto che nulla a che vedere con quella dell'anno scorso e di portarla già a un ottimo livello. E io, ancora una volta, l'ho detto tante volte, ma mi voglio togliere ulteriormente questo sassolino dalle scarpe, questa monoposto noi, con le idee di Diego Tondi, la potevamo avere un anno prima, nel 2023. E vi rendete conto quanto sarebbe stata competitiva questa vettura? Solo che chi allora decideva, e parlo di allora, le idee di Tondi non gli sono piaciute, e quindi è venuta fuori quel carretto dell'anno scorso. Tutto qua. Niente, io non volevo dire questa cosa qua, perché potevamo avere questa monoposto l'anno scorso e quest'anno lo sviluppo di quella che avrebbe corso l'anno scorso. Che peccato. Io direi non due mondiali buttati, però in due mondiali buttata la possibilità di poter lottare. 2022 e 2023. E oggi si rincorre da piuttosto vicino, non vicinissimi, ma si rincorre. Andiamo avanti, perché si è corsa all'indicar, Joseph Newgarner ha trasformato la pole in vittoria. Poi abbiamo Pato Howard e Scott McHuglin. E poi a seguire tutti gli altri, ritirato Roman Grosjean. Poi andiamo avanti, perché in Formula 1 Academy è successo qualcosa di veramente singolare, perché la seconda gara è stata vinta, come potete vedere, anche, perché già aveva vinto la prima da Dorian Pinn, però è stata squalificata Dorian Pinn e quindi è andata la vittoria alla Pulli che è il secondo posto a Maiaweg. Ma sapete perché è stata squalificata Dorian Pinn? Perché ha fatto un giro in più a manetta. Cioè, questo è quanto, creando delle situazioni di pericolo. Praticamente nell'ultimo giro non aveva capito che quello era l'ultimo giro e tagliato il traguardo ne ha fatto un altro. Quindi, da qui, 20 secondi di penalità che gli tolgono la vittoria. Bene, ragazzi, anche per questa notte abbiamo finito. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commento, condividete il video sui vostri social e attivate la campanellina. Siamo, abbiamo passato i 26.000 e adesso l'obiettivo è 27, che poi è un bel numero, 1.000 e anche 28 non mi dispiace. Quindi, spero di arrivarci presto perché i 30 sono dietro all'angolo. Un bacio, buonanotte e grazie ancora a tutti. Ciao!